però bello è abbastanza incagnata col pezzo lì sicuramente con una stradale ragazzi diventa molto molto difficile e si riparte qua si va su ragazzi deve essere abbastanza dritta però almeno da vedere dalla mappa si sono strade abbastanza tortuoselle sono andato un po in difficoltà nel pezzo prima dove c'erano un po di tornantini però vabbè ho riuscito a gestirla abbastanza bene dai non siamo caduti l'importante è quello e qua la strada continua ad andare su da un po' che c'è solo vegetazione adesso si sta aprendo un po' guardate qua che spettacolo spettacolo adesso si spiana fotina ci sta va perfetto grazie a tutti 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 And now you can't wish you had shut the fuck up real bad And now that I'm gone yeah I know there's no turning back And now that I'm gone yeah I know there's no turning back And now that I'm gone yeah I know there's no turning back And now that I'm at a certain point I don't have any signs But now we're close to Castelnuovo-Berardenga Che mi è a me molto nota visto che è stato uno dei miei primi viaggi Forse il mio primo viaggio con la Z750 Primo viaggio qua nelle zone Comunque adesso mancano 45 km Sono andati proprio una ventina Allora non c'erano più i cartelli In più in una strada c'era il divieto di transito Quindi non saprei dirvi Comunque abbiamo saltato poco ragazzi Questa strada fa parte dell'eroica Infatti c'era il cartello Mi sembrava che sono prevalentemente asfaltati Adesso fra pochissimo Arriviamo nel punto dove si interseca la strada Dove in pratica si chiude l'otto Mancano ad ora 33 km Quindi qua bisogna stare attenti Perché c'è segnato Eroica fine Eroica ritorno Eroica Praticamente questo qua E' il pezzettino che abbiamo fatto stamattina E qua c'è l'eroica Andata ritorno Ok E qua si presenta subito Sterrato Dopo qualche chilometro Di asfalto Ritorniamo sullo sterrato Che ragazzi Ora che mancano 27 km Siamo quasi arrivati Facciamo una piccola Piccolo riassunto di questa eroica Che davvero vi consiglio di fare Tra sterrate E comunque anche pezzi asfaltati Davvero un merita tanto 200 km 200 km Belli tosti Soprattutto se fatti Col caldo Diciamo Per le moto Forse le stradali Meglio evitare Perché c'è davvero Un bel po' di sterrato Quindi Non è Non è implicatissimo Però Con Con moto Enduro Maxi Enduro O comunque Touring Penso Che sia abbastanza Fattibile La cosa I know You told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me well then baby I have a taste Just all the highs and the lows know you'll never be the same Not all about nothing Because you're trying to stay strong To speak And then walk away Uh huh Purpa, it's all A hard time Il r тем Karol Al the end of the Cinello Leloica Adesso andiamo a Ri- Hara Kander An effiнимare forgiven currently E via Siamo Ter Oberishi Siamo 서 8 R à davvero davvero bellissimo quindi ragazzi da me e dal galletto è tutto vi ricordo se vi è piaciuto il video di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale per seguire tutte le mie avventure o svetture come ultimamente capita spesso però è molto bella fatela se vi capita di passare di qua 200 chilometri immersi nel verde nella natura e niente grazie ancora e al prossimo video ciao ciao